Non lasciare sole le donne vittime di violenza, è questa la mission del guscio di Roseto degli Abruzzi, l'associazione nata ad ottobre scorso da un romanzo. Nasce nel guscio della noce, il mio ultimo romanzo parte da una storia vera di una violenza, di una figlia che commette un gesto in consulto, ha toccato la coscienza di molte persone e da qui è nata l'idea poi di fare un corto cinematografico e dopo il corto è nata l'associazione a Roseto, il guscio. L'associazione avvalendosi di professionisti offre supporto psicologico, ma l'obiettivo è quello di ampliarsi e inaugurare una casa rifugio. Abbiamo postato un piccolo annuncio su Facebook dicendo siamo nate, siamo a Roseto e sono arrivate le prime telefonate. Noi già stiamo operando pur non avendo ancora una sede fisica e questo ci ha dato un po' il polso della situazione, perché in un paese come Roseto non si immaginano che questi episodi accadano al vicino di casa. Per sensibilizzare sul tema della violenza degli uomini sulle donne, fenomeno aumentato a dismisura durante la pandemia, il guscio ha raccolto storie ed esperienze di violenza di genere in un'antologia che sarà presentata in un evento di autofinanziamento. Faremo una presentazione sabato 19 a Villa Rossella, perché abbiamo bisogno di vendere le antologie e per ricavare, per cominciare, un piccolo gruzzolo per poter aiutare maggiormente le persone, perché ci autofinanziamo.